Adesso apriamo la pagina sportiva parlando di calcio a 5 femminile con un Montesilvano da sballo che vince lo scudetto. Capolavoro in rimonta delle ragazze del Montesilvano che come in gara 1 vincono 3 a 2 a Falconara e conquistano il terzo scudetto di calcio a 5 dopo i trionfi del 2011 e del 2016. Le bianca azzurre vanno due volte sotto a Falconara ma poi con un autentico capolavoro le ragazze di Sant'Angelo rimontano le campionesse di Coppa Italia battendo le 3 a 2 lo stesso risultato di gara 1. A Falconara il primo tempo si chiude sotto di due reti per il Montesilvano ma nella ripresa il gol di Guidotti riapre i giochi seguito da quello di Xaxo che segna il pareggio. La rimonta la firma Capitan Dincecco con il gol del vantaggio bianca azzurro che sancisce quel 3 a 2 per il Montesilvano che batte in trasferta le favorite. Al fischio finale grande festa ed entusiasmo per il Montesilvano che vince così il suo terzo scudetto forse il più bello nella storia del club con tre reti tutte nel secondo tempo firmate come detto dalle marcatrici Guidotti, Xaxo e Dincecco. E il tricolore torna in Abruzzo dopo 5 anni.